Mi sono sentita bloccare, mi ha messo le mani sopra, ho aperto gli occhi, ho visto tutte queste luci, non mi rendevo conto, però ho visto che erano a volto scoperto e c'erano delle luci davanti, un fronte probabilmente. Siamo a Lucignano, in provincia di Arezzo, in piena Valdichiana. Nella notte fra martedì e mercoledì scorso, questi due coniugi, Jacopo Maccioni di 65 anni e la moglie Angela di 60, sono stati rapinati. Al buio, senza una luce diretta sulla cassaforte, con la tensione che uno ha addosso, io avevo sbagliato due volte il codice, la terza volta si blocca, quindi la mia preoccupazione era che questi pensassero, io stavo facendo apposta una manovra per non aprire la cassaforte, poi per fortuna invece al terzo tentativo ha funzionato, si è aperta e poi mi hanno messo da parte. Queste le fasi concitate di una rapina messa a segno proprio nella villetta, i malviventi in tutto tre hanno appunto svegliato nel sonno questi due coniugi e hanno portato l'uomo ad aprire la cassaforte. Quello che colpisce di questa storia è la lettera ai rapinatori che il signore ha scritto proprio su Facebook lanciando un messaggio. Ho scritto questa cosa tenendo presente due elementi, uno che le persone sono sempre più importanti delle cose, l'altro elemento da tenere presente di non identificare mai quelli che compiono una determinata azione con quelli che appartengono alla stessa popolazione, allo stesso popolo, alla stessa etnia. Il mio oro più prezioso non me l'hanno portato via, che cosa intendeva? I libri che abbiamo in casa, i libri di due vite sommate insieme che sono il tesoro e quelli non possono portarlo via anche se lo portassero via materialmente e dentro di noi perché sono libri che sono stati letti, che ci hanno formato ed è proprio grazie anche a quei libri che abbiamo letto e che ci hanno formato che ho scritto quello che ho scritto e che quindi riesco a leggere nel modo in cui leggo l'episodio che ci è a corso. Grazie a tutti.